Ma si è nata una cosa che non hai visto? Ti sono 40? Oh, mi sapevare, è nata e faccio 30. E io dove ho fatto? Ma che se non lo potevo riporto in mezzo, vero? Mi sono paese, è nata e faccio 30. Eh, già, è una vita, sei il compagno. Lui ha voluto che io mi chiamasse, non per le questioni della causa, perché non è che io sono fatta, ma una serie di cose che lui vuole sistemare. Che amanti che ne abbiamo parlato per non farci capire, ci sono voluti i sandi e il padre nostro. Quindi ora, perché te lo vincchi tutti e due, e ci vogliono tutte quelle le cose. Io non mi sono scordato. Io non mi sono scordato. Sì. Ci guarda perché tu sai quando sono? Ci guarda perché tu sai quando hai visto la tua? E li abbiamo fatti 15 in l'ora dovevano servire per il 30, 25 in il 50 in il 50. Ora le tue mani ti andranno a fare, ma questo scordo è una domanda mia. Carmi, cosa acconde? Devi portare una cosa, sai che quando devi portare? non mi ricordo che erano 12 mila euro all'anno quando si chiude l'anno l'anno, all'anno 12 mila euro, l'ultimo sicuro chi non ha appunto capotonato non si guarda in bocca era un rumeno capotonato, no, capotonato ancora che non continuiamo se non capotonato non si dice, non giudere capotonato non va bene capotonato e non giudere capotonato non vado a vedere il pietro sulle nuove ponte di la notte si, si, non sa due volte